Corte d'Assise dell'Appello di Torino, sezione seconda penale, facciamo il dispositivo di sentenza in nome del popolo italiano, di stile articoli 605 e 627 del codice diritto, giudicando a seguito gli annullamenti con l'indio da parte della Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 6.000.2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 24 aprile 2019 dalla Corte d'Assise di Torino nei confronti di Cospi d'Oltredo e di Niamino Anna, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza atteguante di quell'articolo 311 del codice penale e ritenuta tale circostanza e le già applicate circostanze atteguanti generiche prevalenti sulla recidiva ridetermina la vene infitta a Cospi d'Oltredo in anni 23 di reclusione e la vene infitta a Beniamino Anna in anni 17 e mezzinore di reclusione. Conferma nel resto. Indica il termine di reclusione della mutinazione della sentenza al 24 settembre 2023. L'udienza è pronta.